Uè! Non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè! Bella a tutti ragazzi! Siamo qua oggi con la pamina! Ciao amo perché siamo qua oggi? Siamo qua perché ci è arrivato un bel pacchettino da stampa 3D! Signori, terzo unboxing! Volevamo farlo insieme a loro o no? E che cavoli! Secondo te cosa è pesante, fa toccato! No, è leggero! Cosa? Poi non si sente niente, è quello che mi mette il dubbio, è leggerissimo e ho qualcosa di solido! Ma semmo lo scicotti così si spaga qualsiasi cosa ci sia dentro! Apriamo? Mentre la pamina apre intanto il box! Vi ricordo ragazzi che un sacco di cose inerenti fortnite le potete pigliare dal sito stampa3d sud! Sono dei ragazzi che ci stanno dentro! Ma va no, pensavo erano della Val d'Aosta! Secondo te perché... Non ti tagliare le mani! Non ti tagliare le mani! Vendita e assistenza per stampanti stampa3d sud! Vendita e assistenza, ci hanno già dato ragazzi questa, nel precedente unboxing, la bellissima bomba ballerina di fortnite! La banana! La banana! Eccola qua! Questa è veramente OP! Bananozza fort! Cosa? La bananozza di fortnite! Poi tante cose! La testa del lama! La testa del lama! Il mio Funko Pop! Che trovate se... Funko Pop! Perché Funko Pop? Quanto ci vuole ad aprire un pacco? Puoi fare come tutte le persone normali! Ok! Il suo Funko Pop! Funko Pop! Tu mi vorresti mandare a Funko? A Funko! No! A Funko! A Funko! Ci sono dentro dei fogli, vorrei vederli un secondo! Fai vedere i fogli! Qua c'è dentro quello che c'è, non lo voglio sapere! Fai vedere, mostra bene! Stampa 3D! 3D! Ok, così lo vedono benissimo, è buissimo, lo mettiamo qua sempre! Stampa 3D sud ragazzi, lo mettiamo qua! Il meglio del meglio, per chi vuole il meglio! Cos'è? Questo è quello che dici! Aia, aia! Dove invita? Stampa 3D sud, vi invita dal 3... Il 30 ottobre... Dove è legge scritto il? Dal 30 ottobre al 3 novembre a Luca Comitz & Games 2019, saremo presenti con tante novità a tema Fortnite! Stampa 3D sud, dai! Dai! Diciamo tutte le cose della stampa proprio qui! Adesso non ho capito... Ma che cosa ci hanno dato? Porca va! Wow! Froat! Guardate che ca... Odia, sono raccoglino! No, c'è una cosa che la voglio io! LOL! Ma cos'è? È la legna di Fortnite! La legna di Fortnite! Ma non solo... No, vabbè che figata! Legna! Mattone! E abbiamo anche il metallo! Ce l'ho arrivata dopo, raga! Sbrong! Che figata! Legna, mattone e metallo! Mettiamo qua, poi li troviamo... Che forti! Certo, aprito uno! Vai tranquillo! Un po' di ASMR! Vai che andiamo! Sai cos'è l'ASMR? 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 No, l'ASMR! 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 No, l'ASMR! L'ASMR! Non ti tagliare le dita, per favore, che non possiamo fare un secondo unboxing! Madonna, questo è mio, l'ho già detto! Non capisco perché dovrebbe essere tuo! Perché mi piace! Un po' di ASMR! Eh, un po' di sospanso, ragazzi! Che figata! Guardate che bello! È donna, c'ha le zine, ragazzi! È donna! È donna, c'ha le zine! Sì, non devi toccare che sia su YouTube! E perché mica succede niente, zine? Non c'è da toccare! Fiocchetto! Fiocchetto! È bellissima! Questo è veramente strabello, ragazzi! Il Cuddle Team Leader! Bellissimo! Mettiamolo qua! Strappo 3D Sud! Pronto! Con la bananazza! Mettiamolo qua con la banana! Posso aprire un coso? Sì! Non darmi più blu! Un grande o piccolo? Non ho venti minuti! Lo do grande, dai! What is this? Ce ne ha un altro! Cos'è? Oh! Cos'è? Oh! Cos'è? Oh! È una... È una lama? Sì! Eh! Ma vai! Un altro! Come l'hanno fatto? Questo qua... L'hanno fatto d'oro! Il lama di salva il mondo, questo! Per tutti gli amanti! Porcavacca! Un po' di Hasbro! Un secondo! Bello! Dammi tutta quella carta che la buttiamo! Sì! Questa carta qua sulla scrivania è veramente inguardabile! Tieni! 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 Oh! Ma ragazzi che belle cose! Bellissimi! Oh! Guarda qua! Oh! Ma è gigante! Che grosso! Guarda! Fammelo sentire! No è leggerissimo! Non è leggerissimo! Che bello! È meraviglioso! Proprio bello! Bello bello! È meraviglioso! Oh! È pure pitturato! E certo! Fanno tutto a mano! Fanno! Stampano in 3d! Pitturano a mano! Lama nuovo! Pronto! Mettiamolo qua! Lama! Ah! LOL! È bella che lo tiro fuori! Questo è quello vecchio! Mio! Devo trovare spazio per mettere tutta questa vetrina di cose! Questo lo trovate in vendita eh raga! Il Funko Pop di Xyuda! CAVOLO! E questa chi sarebbe? Ehi secondo te? Eh no io! Eh no io sono! Questo però è mio! Ok! Rimane qua che lo mettiamo! Se ne hanno fatto le ciocche viola! Non ci può sapere! Eh certo! Oh ragazzi! La pomi! Oh ma sei uguale! Aspetta! Voglio rivedere anche il mio! Questa è la numero zero ragazzi! Il più raro di tutti! Io non l'avevo neanche tirato fuori! Sbronk! Mi ha accecato un faretto! È bellissimo eh! Siete uguali! Siete uguali! Bello raga che figa! La pami! Ho perso la banana! L'ha scritto dietro! Non male io ce l'ho ancora attaccata! La pami! Hai ringraziato i ragazzi di stampo 3D6? Siete fighissimi! Perché l'hai messo lì che non si vede? Eh mettilo un attimo che ho perso la banana! Hai la testa talmente che... Io ho sempre a posto! Ok! Eccola con la mia banana! Mettila a posto! Vieni metti a posto la banana della pami! È uguale con la giga! C'è qualcos'altro? Sì! Come c'è qualcos'altro? Sì! C'è un gattone in là! Tu bello il bazooka di Fortnite! Un sacco! Eh ma apriamolo! E certo che lo apriamo! Sto facendo vedere! Da sotto! Da sotto! Da dove c'è l'apertura! Non c'è l'apertura! C'è la cosa qua che sia! Che forti! Sono tipo dei portachiavi! Sono indistruttibili raga eh! Fai vedere! Cecchino! Cecchino! Testo a marshmallow! Testo a marshmallow! Prot! Fucile a pompa! Pompa! Non si vede! Eccolo! Lì si vede benissimo! Guarda io voglio quello blu è bello! Con la mia Fortnite! Oh portachiavi! Portachiavi! Questo è meraviglioso! Lama tutto smoccoloso! Lama tutto smoccoloso! Lasma lo devi fare qua lo devi fare! No! Lasma è co... Vabbè! Esatto! Questo è bellissimo! Blu e lilla! E' una proprio... Guardate che bello! Blu e lilla! Ragazzi! Meraviglioso! Quello che hanno fatto! Vi ricordo ragazzi! Stampa 3 di Sud! Potete prendere ovviamente! Ops! Mi è crollata la banana! Tutte queste cose! Grazie per aver guardato questo video! Ci vediamo al prossimo unboxing! Ciao! Stampa 3 di Sud! Ciao ragazzi! Ciao! 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 Grazie.